Un libro, una mostra e uno spettacolo di videomapping. Così Fondazione CRC ha celebrato a culo i 50 anni dal primo sbarco sulla Luna. Eventi non solo per festeggiare l'anniversario, ma anche per diffondere un messaggio importante. È necessario essere consapevoli di quello che dobbiamo fare per mantenere un pianeta vivibile e non essere costretti a fare come tanti ci stanno suggerendo, di guardare nello spazio per avere nuovi mondi a disposizione. Luna, la prima colonia, il libro che Fondazione CRC ha distribuito gratuitamente durante la presentazione, racconta l'Apollo a 50 anni da quella data. Questi 50 anni non sono passati in vano, le tecnologie di oggi sono un'eredità diretta di quel mondo e le nuove tecnologie che stanno nascendo sicuramente ci porteranno di nuovo sulla Luna e verso Marte. Quindi abbiamo di fronte una sfida tecnologica e scientifica che è ancora più grande di quella che affrontarono 50 anni fa gli uomini dell'Apollo. Sì, il programma Apollo non è stato solo fino a se stesso, cioè non è servito soltanto per riportare sulla Terra quasi 400 kg di rocce e campioni lunari, ma è servito anche per una riconquista della Terra con 160.000 brevetti. Questo fu il numero calcolato allora dalla NASA di quelle che sono le cosiddette ricadute tecnologiche di prodotti che abbiamo noi sulla Terra, non da oggi ma di cui godiamo ormai da decenni. Quindi si va dalle cose più semplici come può essere per esempio lo scarpone di Armstrong che era stato utilizzato per dei doposci, a una piccola valvolina di una pentola a pressione fino allo sviluppo e al miglioramento delle tecnologie informatiche per migliorare sempre di più per esempio i voli commerciali degli aerei. E fino al 15 dicembre, nello spazio Innovazione in via Roma Cuneo di Fondazione CRC, si potrà visitare la mostra Destinazione Luna, il futuro è adesso.